Ok, aspetta, c'è un'altra regola. Che noia! No, 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 questa è in assoluto la più importante. Non devi, in alcuna circostanza, permettere a quei due di stare insieme. Mi sono spiegata? Come vuoi. Sì, grazie cara! Mancherete tanto alla mamma di serini! Ciao! Chi sono i coniglietti più tenerotti del mondo? Siete voi, vero? Ma certo, siete due adorabili batuffoli magici, non è vero? Chi sono i conigli più belli del mondo? Siete voi, sì, proprio voi! Com'erano i vostri nomi? Ah, fa niente! Tu ti chiamerai Merlino e tu ti chiamerai Eriudini! Mi piacciono questi nomi? Sì, sì, siete così carini! Tieni qui, Merlino! Oh, nessuno è più morbidoso di Merlino, vero? Sì, che vero! Tocca a te, Eriudini! Sto affogando nella tenerezza! Facciamoci qualche selfie solo per noi due! Ok, torna nella gabbia! Oh, sì, mi ha detto che devo tenervi separati! Vi da tante regole sciocche da seguire, non è vero? Bene, da tantissime anche a me! Ma a noi non servono perché siamo i conigli più carini e magici del mondo, giusto? Le regole sono per i perdenti, no? Proprio così, proprio così! Sapete cosa renderebbe tutto ancora più bello? Fare un grande carota party! Non siete troppo deneri mentre non ci sono, eh? Che fortuna, sono le ultime! Erreudini! Ora sei mamma! Siete così belli! Oh, caspita, mi fate impazzire! Non posso più vivere senza di voi! Dite carote! Ciao! 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 Ciao!